Sì, ok, vedi? Una, dos, don't move! Ok, una, dos, wow! Bravissimo! It's very good for brushing. Vogliamo, eccolo, uh, che movimento. Sì, it's easy. È semplicissimo. Prima di andare via. Ah, ecco, ringrazio il pubblico perché dice che se oggi è quello che è, lo deve a voi. Grazie infinito! Io volevo... Sì? Ciao! Ciao!